Copca dopo il? Alla festa dopo il reality show, che si è tenuta in un locale nel centro di Roma e alla quale hanno partecipato quasi tutti gli ex vipponi, la verità Alla lanterna c'erano Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Attilio Romita e Luca Salatino E poi la vincitrice Nikita Pilizzoni, Edoardo Tavassi con la sua amica Lincoln Corvalli. Grande assente Luca Onestino, che l'aveva fatto sapere sui social, ma al party non sono mancati Giorgio Tilan e Ginevra Lamborghini Ecco, nei giorni scorsi il giovane TikToker e la sorella di Elettra Lamborghini ora cantante erano stati definiti nuova coppia dopo le proprie alla festa a Roma, incalzati da Nikita, hanno deciso di dire come stanno veramente le cose Leggi anche, guardate, imbarazzate. Antonella Fiordelisi lo ha fatto contro l'incorvassi alla festa coppia dopo Io? La verità è la festa come detta, il gossip sulla presunta nuova coppia dopo l'è esploso a reality finito, nonostante già dentro la casa avessero mostrato una certa affinità Dopo la finale del programma i due si sono visti spesso e i selfie insieme, prima a una cena tutti insieme, poi in occasione dell'uscita del nuovo singolo di lei hanno insospettito i fan Ma poi, alla festa con tutti gli ex concorrenti, Nikita Pelizzoni ha voluto risolvere il giallo circa questa presunta nuova coppia dopo il Tra le sue video in cui Giorgio Pilon e Ginevra Lamborghini vengono interrogati dalla vincitrice del programma di Alfonso Signorini Scusate ragazzi ma abbiamo una domanda, volevamo chiedere ai nostri intervistati, ma lasciato quando? La domanda di Nikita Pelizzoni che tutti i fan volevano sentire Siamo solo amici, fredici? Dice Ginevra Lamborghini smettendo più il mio rumor sulla coppia dopo GF2 Ma se fosse un apprendeci un po' più, dai ditelo, li ha incalzati la Madonna. Senza risultato però, entrambi hanno continuato a negare Grazie a tutti